Ciao ragazzi, bentornati sul canale del vostro coach, anche oggi qui per allenarci insieme. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le campanelle qui da ricevere sempre in anteprima le notifiche dei miei nuovi allenamenti. Ne posterò all'incirca uno ogni settimana. Oggi un allenamento veramente tosto. Venite con me! L'allenamento che faremo oggi rientra nella famiglia degli interval training, quindi all'altissima intensità e prende il nome di Tabata, dall'omonimo scienziato giapponese Tabata che negli anni 90 crea questo allenamento composto da soli 4 minuti, noi ne faremo molti di più, ad altissima intensità, capace di migliorare quelle che sono le caratteristiche aerobiche e anche la soglia anaerobica. Si presta benissimo questa tipologia di allenamento per tutti quelli che sono gli sport di compattimento ma anche di squadra dove la corsa è la componentistica principale. L'allenamento che vi propongo oggi è di 12 minuti, 20 secondi di lavoro al massimo, al massimo, non ripeto, delle vostre potenzialità, 10 secondi invece di recupero. Se volete provare allenamenti ad altissima intensità, qui sotto in descrizione trovate il link per accedere al mio gruppo Facebook privato all'interno del quale troverete degli allenamenti 3 volte a settimana ad altissima intensità per ottenere risultati concreti. Vieni ad allenarti in diretta con me. Ragazzi, diamo subito il via a questo allenamento. esercizi molto 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 semplici, un allenamento breve, 12 minuti, 3 scaglioni da 4 minuti con un minuto di riposo nel mezzo, se lo farete al massimo delle vostre potenzialità. Questo allenamento Tabata è veramente impattante per il vostro fisico ed è in grado di aumentare il consumo tipo 2 max nel vostro organismo e anche di aumentare le vostre prestazioni e performance generali del vostro corpo e di aumentare il vostro metabolismo soprattutto nei giorni successivi a quelli che sono i giorni di allenamento, come tutti gli interval training. Stiamo per iniziare. Iniziamo con Jumping Jack e poi Mountain Climber a terra. 10 secondi. Ragazzi, vi ricordo la corretta esecuzione di tutti gli esercizi e soprattutto, mi raccomando, dovete dare il vostro massimo. 3 secondi e si parte. 2, 1, via! Coordinate sempre respirazione e movimenti muscolari. Dai, dammi il tuo massimo! Sto! Sto! 10 secondi solo di recupero. Andremo a terra e faremo un Mountain Climber ad altissima intensità. Sedere leggermente alto. 3, 2, 1, vai! Dai, spingi! Spingi! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, stop! La maglia vola su. 10 secondi che ti ripeni. Jumping Jack. Vi renderete conto di quanto sarà tolto questo allenamento nonostante i esercizi semplici. Vai! Dai, 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 dai! 3, 2, 1, stop! E andiamo a terra. Ragazzi, allenamento è molto difficile da tutte le producci le tecniche, quindi falla bene, ma tosto. 2, 1, via! Respira, respira. Stai rilassato, respira. 3, 2, 1, stop! 10 secondi. Tacco, guarda, la maglia. Toglierla. Bola! 2, 1, terzo giro! Vai! Vai! Stop! 3, 2, 1, vai! E questo è un allenamento adatto non proprio a tutti, o meglio, che non ci devono molto impegnarsi a spingersi molto in nuovi limiti. Oltre, proprio, lì, se vogliono farlo, valori, il passo non ha senso. Spingete al massimo! 1, stop! E' ottimo per chi si allena con regolarità, assolutamente. 5 secondi. Fatti l'ultimo giro. 2, 1, bola! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Ritmo, 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 ginoccia che vanno al petto. Sedere alto. Pinci sulle mani. Respira, respira, altri polmoni. 3, 2, 1, stop! Bene. Da questo momento abbiamo ancora i nostri 10 secondi e poi un minuto di recupero. Un minuto adesso. Dopodiché faremo ancora 4 minuti e quindi ci portiamo ad 8 minuti di esecuzione complessiva facendo skip, ginocchia, alte, mi raccomando, forte, 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 nattore, ginocchia e poi shoulder touch, dopo quindi delle spalle più open, close. Quindi 1, 2, ne facciamo 2 e 2. Ancora 30 secondi. Recupera, recupera perché te lo ripeto, i 20 secondi di lavoro li devi fare al massimo. Al massimo. Gombera la mente e falli al massimo. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube, attiva le campanelle così che appena esce un nuovo allenamento, subito vuoli ad eseguirlo. Ancora 8 secondi. Skip, ginocchia, alte. 3, 2, 1, attivati. Libera la mente e diverso solo a dare un po' 150 per cento. Stop. Adesso invece andiamo a terra. Ancora posizione di plank e da qui. Tocco delle spalle e poi abbiamo di chiudere. Vai. Up, 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 up. Up, 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 up. Up, up, up. Up, up, up. Vai. 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 Ma da stelle. Stop. Ancora. Qui. A terra. 5 secondi. Si vola, si vola, si vola, si vola. Qui. 1, 2, 1, 2. Una macchina! Devo troppo! E come fosse! Fuori tutto! 10 secondi poi ancora schifo, ginocchi altissimi! Vai! Stringi i denti! Stringi i denti! Stop! Ancora! Terza riduzione! Andiamo a terra! 5 secondi e si parte! 3, 2, 1, pronti! Via! Avro, chiudo, avro, chiudo! Ritmo, ritmo! Infernale! Hop, hop, hop! 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 Ultimo giro! Prontissimo! A darmi qui il massimo! Non voglio scuse! Voglio solo gente che si fa il culo! 2, 1, vai! Su, su queste ginocchia! Portiamole su, in alto, verso il cielo! Stop! Tipo sono terminati! Andiamo a terra! Shoot and touch! Open! Close! 3, 2, 1, dai! Tutto dentro! 1, vai! 3, 2, 1, stop! Bene così! Bene così ragazzi! Ora ti stiamo dal tappetino che se ne va da tutte le parti! Ci siamo! Adesso! Un minuto a partire da ora! Mi raccomando! Fai precedere sempre i miei allenamenti! In particolare questo è l'alti intensità! Da un ottimo riscaldamento aerobico! Un'ottima attivazione articolare e muscolare! Portati poi piano piano al livello! Io non ho fatto riscaldamento in questo allenamento perché ero già caldo da allenamenti precedenti! Portati sempre in avvicinamento ad un allenamento a alta intensità! Ad alzare le tue performance piano piano a ritmi elevati! E poi ci vai giù! Dentro di brutto! Come non ci fosse un domani! Uh! Prossimi esercizi! Hip hop squat! Non è jump! È semplicemente tu di più apri dopo uno sport classico! E vai a terra! Partiamo esattamente fra 5 secondi! Bene lo squat eh! Le ginocchia sembrano le punte dei piedi! Vai! Up! 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 Stop! Vai! Ma non siete iscritti al mio canale! Facciatevi iscrivere subito! Non guardare i video! Non fare lo stroppone! Iscriviti al mio canale! 3 2 1 Via! L'interno del gomito sull'interno del ginocchio! Le piante e le pezze e le lunghe ne vanno fare il massimo accorciamento! Le spalle che si guardano leggermente a terra! Stop! Qui! 10 minuti di recupero! Tipo un squat! Undicesimo! Anzi! Decimo minuto! Di percorrenza! Ci siamo! Pola! Oh! Oh! Dai! Bene! Giù! Accorciata completa! Seda! Dai! Qui! Stop! Ancora! Mancano solo due minuti e trenta! Dammi il tuo massimo possibile! Vai! Spicci di oltre al limite! Vai! Vai! Spicci di oltre al ginocchio! Vai! Sop! Ma ancora due minuti mi fermo! Già! Il massimo! Sempre! 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 Nella vita come nello sport! Vai! Vai! Dai! Spingi! Spingi! Abbiamo quasi terminato! Qui! Stop! Andiamo a terra! Terzo giro! Concludiamo con il migliore dei modi! Bike Hubs! 3 2 1 Vai! Spingi! Aumenta! Aumenta! Fa mi vedere chi sei! Fa mi vedere! Che sei una donna! Che sei un uomo! Che hai gli attributi! Spingi! 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 Stop! 20 secondi! Ancora! 10, 4, 4! 20 Bike Hubs! Avrei concluso! Un allenamento! Clamoroso! Vai! Up! 2! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 6! 6! 3! 2! 3! 4! 4! 5! 5! 6! 6! 5! 7! 6! 7! 9! a darti tante motivazioni così ogni giorno e stai sicurissimo non mollerai mai perché sono io il primo ad eseguire gli esercizi insieme a te e a non mollare. Spero che questo allenamento vi sia piaciuto, ormai sono veramente tanti allenamenti sul mio canale, spero che ritrovi il tuo gradimento, lasciami un commento qui sotto, supporterai il mio lavoro e mi farai sapere se ti piacciono gli allenamenti e quali sono le programmazioni che vorrai vedere in futuro. Ragazzi prendetevi cura di voi, fatelo allenandomi, mangiando correttamente tutti i giorni, volendovi semplicemente bene. Tagli!